Musica Bilancio regionale in settimana il Consiglio, la Giunta ha approvato le rettifiche al rendiconto finanziario 2021 Dopo l'esame in commissione adesso il documento passa all'approvazione di Palazzo Daimmo e intanto spuntano nuovi debiti Moto contro auto grave, un centauro incidente questa mattina sulla Statale 17 al Bivio di San Polo Matese Un giovane di Mirabello ha avuto l'appeggio nello scontro con un'autovettura trasportato al Cardarelli in codice rosso Turismo, primi bilanci della stagione estiva che si sta concludendo, intanto le temperature più miti non fermano i turisti della domenica Moltini spiaggia a Termoli Cane picchiato, sdegno sui social, nuovo caso di violenza su un animale a Campobasso Una lagottina di 14 anni sarebbe stata picchiata brutalmente dal proprietario Interviene la Leida, venga allontanata dall'uomo Buona domenica e ben ritrovati con la nostra informazione e la politica in apertura bilancio regionale Sono giorni di lavoro serrato per l'assessore Cefaratti La Giunta ha approvato le rettifiche al rendiconto finanziario del 2021 E la prossima settimana torna a riunirsi il Consiglio regionale Intanto spuntano nuovi debiti e ingiunzioni di pagamento Pasquale Di Bello Torna a riunirsi la prossima settimana il Consiglio regionale del Molise All'ordine del giorno l'approvazione delle modifiche Approntate dall'Aggiunta al rendiconto consolidato per l'esercizio finanziario 2021 Rettifiche necessarie alla luce di quanto evidenziato Sia dalla Corte dei Conti che dai Revisori dei Conti Regionali Un effetto domino che si spera positivo E che dovrebbe riverberare i propri effetti anche sul rendiconto 2022 E soltanto agognato bilancio di previsione 2023 Che incrociando le dita dovrebbe arrivare in aula entro fine mese O al più tardi la prima settimana di ottobre L'assessore Cefaratti non molla la presa E con una tigna da mastino sta scandagliando ogni singola posta, conto, capitolo, paragrafo Dei documenti contabili regionali Un compito arduo che dovrebbe produrre il risultato di rimettere in carreggiata La locomotiva regionale e dare finalmente il via al viaggio di questa legislatura A fare lo sgambetto a Cefaratti non sono le opposizioni Ma soprattutto le sorprese che ogni giorno spuntano come conigli Anzi come guantoni dal cilindro Dal rendiconto 2022 pressoché pronto Sono emersi altri 7 milioni di disavanzo Questo vuol dire che considerati 19 milioni e mezzo per rimborsi per prestiti passati Più altri 13 milioni e mezzo di rimborso per il prestito Nato dal recente decreto spalma debiti Il bilancio di previsione 2023 nasce già con una zavorra di 40 milioni di euro A questo va aggiunta la richiesta da parte della Corte dei Conti Di accantonare 84 milioni di euro per i contenziosi a cui vanno aggiunti Ulteriori quattrini da pagare a fronte delle recenti ingiuzioni di pagamento A quella da 15 milioni pervenuta dal consorzio di bonifica Basso Molise Ne segue una seconda sempre dallo stesso mittente Di altri 7 milioni di euro E da indiscrezioni pare ve ne sia una in arrivo da Molise Dati Insomma anche se nessuno vorrebbe essere in questo momento nei panni di Cefaratti Lui l'assessore al bilancio non molla Ce la faremo dice fiducioso al telefono E sulla questione bilancio ritorna con un suo intervento Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Roberto Gravina In prima commissione abbiamo votato contro il rendiconto 2001 Arrivato dalla giunta in prima commissione Dice invece con forza Perché figlio della vecchia gestione Chiediamo invece con forza Dice sempre Gravina Che si arrivi in tempi strettissimi All'approvazione del bilancio di previsione 2023 Imprese comuni non possono più attendere per i pagamenti e i contributi dovuti Incidente stradale Questa mattina al bivio di San Polo Mattese Alcuni motociclisti si sono scontrati con un'auto Che usciva da una strada laterale sulla statale 17 Ad avere la peggio Uno dei centauri Un giovane di Mirabello Che è stato portato al Cardarelli Con un politrauma Nulla di grave per l'automobilista Sul posto Carabinieri di Boiano 118 Vigili del Fuoco di Campobasso e Anas Sentiamo Probabilmente avevano in mente di trascorrere una domenica di svago Sulla quattro ruote i quattro motociclisti molisani Che poco dopo le nove stavano percorrendo la statale 17 In direzione Boiano Ma arrivati al bivio di San Polo Mattese Si sarebbero trovati di fronte Questa la prima ricostruzione Un'auto che li ha presi in pieno Alla guida della Skoda Un cittadino svizzero Che sembra invece di mettersi sulla statale Da contrada defensa andando a destra Sarebbe invece andato a sinistra Tagliando la strada I quattro motociclisti che sopraggiungevano Cercando di evitare l'auto I centauri sono caduti Tre di loro si sono rialzati Tutto sommato illesi Non è andata altrettanto bene Al quarto del gruppo Un giovane di Mirabello In sella ad una Suzuki Che ha preso violentamente La fiancata della Skoda Cadendo rovinosamente Strusciando sull'asfalto Immediati i soccorsi Il 118 ha provveduto a trasferire il giovane Al Cardarelli In codice rosso per politrauma Le sue condizioni Vengono ritenute serie Sul posto L'intervento anche dei carabinieri Della Radiomobile di Boiano Al comando del capitano Edgar Pica Per i rilievi E farsi un'idea Della dinamica dell'incidente I vigili del fuoco Di Campobasso E l'ANAS Per la gestione Della viabilità L'UGL torna a sollevare La questione del trasporto urbano A Campobasso Il parco mezzi È obsoleto Inoltre si prevedono tagli di corse E di conseguenza Licenziamenti E mancato rinnovo Dei contratti Per alcuni dipendenti Pertanto l'UGL Chiede un confronto Con la regione Sentiamo Torna di attualità Del resto Senza essere mai uscita Di scena La questione Trasporti pubblici A Campobasso A riprendere il tema È stata la UGL Autoferro Che è intervenuta Attraverso il segretario Provinciale Nicolino Libertone È urgente Dice Rinnovare Il parco macchine Allo stato attuale È il parco autobus Che è vecchissimo E Non si rinnova Si fa scarica a barile Tra regione Molise C'è da dire Che il fondo Del TPL Che sarebbe Il fondo Che il ministero Dei trasporti Nazionale Trasferisce Alla regione Molise È unico Non è scritto Da nessuna parte Che i servizi Urbani Campobasso Termo Larino Isernia Vengono esclusi Dall'acquisto Degli autobus Da Libertone Un plauso Al prefetto Di Campobasso Michela Lattarulo Per l'impegno Profuso Sulla vicenda E sulla vertenza Seac All'orizzonte Infatti Potrebbero esserci Anche licenziamenti Nel prossimo autunno Se non era per Sua eccellenza Il prefetto Che convocava La regione Insomma Tutte le parti Questa riunione Non si sarebbe mai fatta Quindi io colgo L'occasione Per ringraziare Il prefetto Per la sensibilità Che ha avuto Sia nei confronti Dei cittadini Perché si va a tagliare Il servizio Altrettanto per I dipendenti Che ci saranno Problemi occupazionali E sociali Attesa invece Tra qualche settimana La nuova gara D'appalto Per l'affidamento Del servizio L'assessore Credele Ci ha detto Che il 15 Si dovrebbe Concludere L'iter Del bando di gara E quindi Attendiamo Quello che succede Per il nuovo Affidamento Del bando di gara 762 mila Giovani Al di sotto Dei 34 anni Hanno lasciato Le regioni del sud Per cercare Il lavoro Al nord O fuori dall'Italia Tra questi Quasi il 18% Sono molisani Tra le province Che hanno risentito Di più Di questa immigrazione Isernia È al terzo posto Lo studio E della CGA Di Mestre Sentiamo Calano i giovani Nel mondo del lavoro E gli under 34 Sono diminuiti Soprattutto nel mezzogiorno A denunciarlo È l'ufficio studi Della CGA Che ha evidenziato Soprattutto Che la contrazione Della popolazione Giovanile italiana Ha interessato In particolar modo Il mezzogiorno 762 mila Unità Andate via Dalle loro case Qualche sofferenza Anche al centro Ma sicuro Più contenuta 160 mila Giovani In meno Cifre molto più basse A nord ovest E a nord est A livello regionale Invece è stata La Sardegna A subire le perdite Più importanti Insieme alla Calabria Ma subito dopo Si piazza Il Molise Dove manca All'appello Un 17,5% Di under 34 A chiudere La triste classifica Basilicata E Sicilia A livello provinciale Infine La realtà Che negli ultimi Dieci anni Ha registrato La diminuzione Più importante È stata Oristano Isernia Con il meno 22,2% E Cosenza Segni più Solo nelle solite Trieste Bologna E Milano La fuga Dei giovani Dalle loro città Di appartenenza Si sommano Al drastico Calo Della natalità E i numeri Diventano allarmanti Segnando il futuro Dell'Italia Come paese Sempre più vecchio I giovani Vanno via Soprattutto in cerca Del lavoro Che non trovano E occasioni Di vita migliori E a questo proposito Suggerisce la CGA Servirebbero Centri dell'impiego Strutturati in maniera Diversa E più efficiente Inoltre Con il coinvolgimento Anche delle camere Di commercio Bisognerebbe accelerare Il processo di avvicinamento Tra scuola E mondo del lavoro Incrementando Gli investimenti Sugli istituti tecnici E sulla qualità Della formazione professionale Materia Quest'ultima Di competenza Delle amministrazioni regionali Piccoli carabinieri Crescono L'odevole iniziativa A Trivento Dove 44 bambini Tra i 6 e i 12 anni Hanno visitato Il comando stazione Dei carabinieri Ad accompagnare i ragazzi Oltre ai professori Giovanni Alfieri E Michela Scurtu E al vice sindaco Sandra Stinziani Il comandante Della compagnia Di Boiano Edgar Pica E quello della stazione Di Trivento Francesco Nobile I bambini Che hanno assistito Alla proiezione Di un video Sull'attività dell'arma Sono restati entusiasti Dell'incontro La visita Rientra nel progetto Cultura Della legalità Promosso dai carabinieri L'uomo Che ieri mattina Si era denudato Davanti ai passanti Nei pressi Della stazione Ferroviaria Di Isernia Dopo essere stato Trasportato in ospedale Riuscito ad allontanarsi Rubando un'auto Parcheggiata Rintracciato Subito dopo Dagli agenti Della questura Di Isernia È stato fermato A Sant'Agapito Dove vive Oltre al reato Di Atti Osceni Ora è indagato Anche per furto d'auto La stagione estiva Volge ormai Al termine A termoli È tempo Di tirare I primi bilanci Sullo sfondo I balneatori Per i balneatori Rimane ancora Da sciogliere Il nodo Sulle concessioni De maniali Sentiamo Francesca Danvers Terminato agosto Con l'avvicinarsi Della chiusura ufficiale Della stagione estiva Si cominciano a fare I primi bilanci Di questa calda estate 2023 A termoli Dove se le presenze A giugno Hanno fatto registrare Un calo A causa del maltempo C'è stato un recupero Nei mesi successivi Soprattutto nei weekend Mentre nei giorni Infrasettimanali Si è registrata Una diminuzione Del 30% Rispetto allo scorso anno I mesi di luglio Nei weekend Si è lavorato bene Fortunatamente Mentre nell'infrasettimanale Comunque C'è stato un calo Rispetto allo scorso anno Agosto Per fortuna È stato un buon agosto C'è stato Si è lavorato abbastanza Quindi Ovviamente Non si recupera Quello che è stato perso Nei mesi precedenti Però comunque Non c'è stato Nessun tipo di problema Visto che anche le condizioni meteo Sono state favorevoli Diciamo I clienti fissi Lo stagionale Comunque sono rimasti Gli stessi La cosa che abbiamo Abbiamo notato quest'anno Sicuramente una presenza Di turisti stranieri In più Rispetto anche Allo scorso Agli scorsi anni Quindi siamo fiduciosi Che questo incremento Di stranieri Possa avere in futuro Sicuramente Un sviluppo positivo Rimane ancora aperta Per i balneatori La questione Delle concessioni De maniali Il prossimo 8 settembre A Roma A Palazzo Chigi Si terrà Un tavolo tecnico consultivo Tra governo E rappresentanti Di categoria Nel corso del quale Verranno esaminati I dati relativi Al monitoraggio Delle aree disponibili E sciogliere così Il nodo Sulle spiagge libere Che rappresentano Il 70% Del litorale italiano Non occupato E che potrebbe essere Vesso all'asta Siamo fiduciosi Che dopo questo terzo Ultimo O penultimo Incontro Tra le associazioni Di categoria E vari rappresentanti Di enti Statali Nazionali Si possa trovare Una soluzione La strada È strada Intrapresa Ovviamente noi chiediamo Di che venga Abrogata la legge Draghi Fatta l'anno scorso In modo molto pasticciato E che quindi Si faccia una nuova legge Che garantisca E tutela Gli interessi Sia dei clienti Della balneazione italiana E sia degli imprenditori Che hanno investito Nell'ultimo secolo Stagione estiva Al termine Ma dopo Un agosto rovente Settembre Iniziato regalando Giornate bellissime Un mare limpido A Termoli E fortunati Che se lo possono permettere Ne approfittano Per trascorrere La domenica In spiaggia Vediamo Mare cristallino Sole e caldo È così che si presenta La spiaggia di Termoli In questa prima domenica Di settembre Sono ancora molte Le persone Che non si lasciano Scappare L'occasione Per rilassarsi Sotto l'ombrellone E per fare un tuffo Prima di tornare Alla routine quotidiana Soprattutto residenti Famiglie con bambini Ma anche tanti turisti Che hanno scelto Termoli come meta Per trascorrere le vacanze Ultimi giorni di mare A Colonia Montese Da quant'è che è qui in vacanza? Il vacanze sono venuto qui da venerdì Storrò tutto settembre Dalla provincia di Potenza A Cerenzo Un piccolo borgo della Basilicata Sono tre anni che torniamo qui a Termoli Perché ci troviamo bene Mai stato in vacanza Quindi la domenica Quando uno può Scendo al mare Niente vacanza ancora Io vengo da Torino Però sono di Termoli Che sono 40 anni Che vengo a Termoli 42 anni per esattezza Mi trovo molto bene Una bella cittadina Molto spaziosa Bella La spiaggia molto bella Bellissima Diciamo così Io mi trovo benissimo Cambiamo argomento Stanno suscitando grande sdegno Sui social Le immagini di una lagottina Di 14 anni Colpita brutalmente ferita Dal proprietario Per il corso di Campobasso Le volontarie della Leida Si sono attivate Per chiedere L'allontanamento Dell'animale dall'uomo E hanno indetto Una manifestazione Di protesta Per sabato pomeriggio Una di loro Era presente All'episodio di violenza E ci ha raccontato La scena Che si è trovata davanti Sentiamo Un nuovo raccapricciante Caso di violenza Su un cane Per di più anziano Si è verificato A Campobasso Un uomo Avrebbe ripetutamente Colpito con un bastone La sua cagnolina Lagotto Di 14 anni Con un bastone In pubblico Per il corso cittadino Causando le ferite profonde Il gesto dell'uomo Ha causato lo sdegno Dei passanti In particolare Di una volontaria Della Leida Che passava di là Ed è intervenuta Chiedendo all'uomo Di smetterla Di picchiare Selvaggiamente Ero lì Ero lì sul corso Di Campobasso E mi sono quasi avvicinata Perché ho visto già Che il cane Era molto lontano Dal padrone Era una cosa Come una paura Un terrore Io mi sono avvicinata Per chiedere al signore Cosa ha fatto il cane Perché quando si è girato Era visibile Già una vecchia ferita O qualche altra cosa E lui Al momento che io Mi sono girata Non ha fatto altro Che prendere il bastone E tirare l'uomo in faccia Mi ha terrorizzata Praticamente Io in quel momento Ho detto No Che stai fare Ho urlato Perché il cane Si è allontanato Lui ha preso un giornale Che aveva in mano E gli ha asciugato Le gocce di sangue Davanti a me Che gli uscivano dal naso E per me è stato un terrore Quando poi la gente Ha cominciato ad avvicinarsi Ma che è successo Ho urlato Guardate che cosa Gli ha fatto il cane Che poi indagando E' venuto fuori Che non era neanche La prima volta No Infatti questa Era molte volte Già che qualcuno Mi aveva riferito Che il cane Era stato maltrattato Noi l'avevamo visto Più volte Però non l'avevo visto Personalmente Non mi ero attivata Perché anche io Sono una volontaria Del Noeta A Campobasso Quindi mi ero proprio Preoccupata E stavo malissimo Poi l'ho visto L'episodio direttamente Davanti a me E poi mi è scattato Tutto praticamente Ci sono stata troppo male E anche le altre persone Come me Non ci dormono la notte Dobbiamo risolvere Assolutamente questo problema E come lo vogliamo Risolvere questo problema Che si può fare? A dire la verità Noi già abbiamo presentato Una regolare denuncia Con l'avvocato Tolesino Nei confronti di questa persona E abbiamo chiesto Il sequestro immediato Per quando riguarda La cagnolina Con la speranza Che insomma Ci venga dato Al più presto possibile Andremo in tribunale Con l'avvocato Per vedere A chi è stata affidata Insomma Questa denuncia E chiedere al magistrato Di velocizzare la cosa Le volontarie della Leida Hanno organizzato Una manifestazione Di protesta Per sabato pomeriggio E per questo caso E per sollevare Il problema Della violenza Sugli animali Casting in Molise Per Oro Film per il cinema Per la regia Di Domenico Ciolfi Che sarà ambientato Tra Molise E Puglia Il casting Si terrà ad Agnone Il 5 settembre Alle 17 Presso il teatro Italo-Argentino E il 14 settembre A Campobasso All'hotel Centrum Palace Il film Oro È una commedia nera Che indaga la storia E la cultura Di un territorio Ricco di leggende Luoghi meravigliosi Seguendo le antiche vie Dei tratturi Dall'Alto Molise Fino alle pendici Del Matese Lungo la valle Del Biferno Fino a Termoli Tra gli attori Ci saranno Francesco Pannofino Edoardo Siravo Emanuela Rossi E altri Professionisti Del cinema Ed è stato presentato A Castelpetroso Il libro di poesie Oltre me stessa Di Enza Berardone L'autrice Ha vinto Il concorso Internazionale Emily Dickinson Ed è stata Premiata a Napoli Lo scorso giugno Sentiamo Valeria Migliore Un diario di vita Che raccoglie i dolori Il lutto I ricordi E che racconta La paura Di ciò che nel tempo Può mutare E cambiare forma Nelle pagine Di Oltre me stessa Enza Berardone Poetessa Lucana Ricerca ciò che attraversa I confini Di una realtà Che non sempre La soddisfa Una sensibilità Che ha convinto La giuria Del concorso letterario Internazionale Emily Dickinson La siloge La siloge presentata A Castelpetroso In un evento Voluto Dall'associazione Le tre torri Ha infatti vinto La 27esima edizione Del premio Nella sezione Poesia edita È una siloge È una sorta di Potremmo dire Di diario Esistenziale Quindi parla un po' Un po' Parla molto Della mia vita Parla quindi Delle mie speranze Delle mie cadute Delle mie Della mia Intrasferibile Solitudine Ma che poi Comunque non mi Paralizza Non mi chiude Ecco È una poesia Che è una sorta Di viaggio Una sorta di viaggio Poetico Che mi porta Che va al ritroso Mi riporta Mi porta a me Ecco quindi È un ripiegamento Su me stessa Però allo stesso tempo È anche Mi dà la possibilità Di aprirmi anche al mondo E di raccontarmi E raccontare Perché poi in effetti La poesia È questo A conversare con l'autrice Il docente universitario Teofilo De Angelis Il professore Di letteratura medievale Ha trovato Nelle poesie Della Berardone La capacità Di frammentare Un vissuto Fatto anche Di sofferenza In cui Il lettore Può riconoscersi È una Raccolta Nella quale Mi sono riconosciuto Perché È espressione Di valori Come dire Nei quali Nel tempo E nello spazio Gli uomini Possono E devono Riconoscersi Sono valori Tradizionali Sono valori Sani Come la famiglia Il legame Con la terra L'amore E tra questi sentimenti Naturalmente Non mancano Purtroppo Per fortuna Il dolore Le sofferenze Le angosce Perché anche Queste Fanno parte Della nostra vita Per questa edizione Del nostro Tre giornale Tutto Grazie per l'attenzione Buon pomeriggio Buona domenica Buona domenica Buona domenica Buona domenica Buona domenica Buona domenica Buona domenica